Ma io penso di iniziare il mio brevissimo intervento così, il master plan del sito espositivo coniuga molto bene creatività, innovazione, funzionalità, attrattività, è certamente molto rispettoso dell'ambiente e soprattutto lascia una importante eredità per Milano. L'ho detto prima il nostro sindaco, un parco, il più grande d'Europa, Paolo Romani, una sassa rubra milanese. Quindi sono certamente delle eredità significative ed importanti per Milano. Quindi il grande sogno di cui parlava prima Letizia Moratti sta diventando certamente una importantissima e significativa realtà. E certamente per fare in modo che questo sogno diventi una realtà occorre la condivisione, la partecipazione di tutti. Dico questo perché quando nel settembre è stato presentato il concept del master plan, noi abbiamo fatto una indagine, abbiamo intervistato 500 imprese. Ebbene, il 50% non era a conoscenza. L'altro 50% che era a conoscenza, per più del 70% si è dimostrato molto interessato e soprattutto ha apprezzato la capacità di attrarre i visitatori. Quindi le imprese ci chiedono sempre di puntare sempre di più sulla informazione e dunque sul coinvolgimento dell'evento. E allora ecco che da parte di tutti oggi, in questo momento, secondo noi, richiede da parte di tutte le istituzioni, ma anche da parte di tutti i cittadini interessati, un supplemento di impegno, un supplemento di testimonianza, un supplemento di responsabilità. Noi come Camera di Commercio, e certamente questo è noto, abbiamo creato dei tavoli tematici per le nostre imprese, utilizzando la nostra azienda speciale, guidata da Bruno Ermoli, l'azienda speciale Promos. Abbiamo avviato nove tavoli tematici dedicati all'accoglienza, alle infrastrutture, all'ambiente, al credito, all'agroalimentare, alla salute, alla cultura, alla solidarietà e ai giovani. E dalle riunioni che si succedono in maniera molto frequente, già molti progetti sono stati raccolti. Queste riunioni vengono fatte da tutti i rappresentanti delle imprese, del mondo accademico e scientifico. E di questi molti progetti e molte altre idee e suggerimenti che riguardano l'Expo, ma riguardano anche, questo è il passaggio importante, la vivibilità di Milano, la sua competitività. I tavoli, come dire, sono un vero e proprio laboratorio di idee, sono un'occasione anche per il ripensamento della nostra città, ma anche un momento di confronto, un momento di incontro importante, dove possono nascere anche delle alleanze molto preziose ed interessanti per la realizzazione dei progetti stessi. La Camera di Commercio, attraverso i tavoli ai quali partecipa tutto il mondo imprenditoriale, svolge proprio la sua funzione integrativa dei diversi interessi del sistema economico della città. Si dice, ma è apparso anche in maniera molto evidente questa mattina, che l'Expo è già iniziata. È vero, noi abbiamo iniziato con i nostri tavoli una fase operativa importante. I progetti più interessanti intraprenderanno un percorso di fattibilità. Per alcuni è previsto l'autofinanziamento. Poi, se ci sono questi tavoli tematici, non sono tavoli a compartimenti stagni, ma un progetto può essere anche colto, catturato da altri passaggi, può essere anche certamente condiviso. E da tutti questi progetti emerge, ecco, secondo me questo è un passaggio molto importante, una grande e diversificata volontà di partecipare, ma anche un filo conduttore. L'interesse nel coinvolgere l'intera città, come se Milano stessa fosse un luogo espositivo dell'Expo, un vero e proprio fuori Expo. Questa è la nostra idea di Expo diffusa dalla città e nella città. E coinvolgere la città, e concludo, significa coinvolgere le imprese, i cittadini, e anche rafforzare la coesione sociale. Grazie.